Con Fabio Mancuso che voleva replicare al presidente dell'ACOSET Diego Di Gloria il quale ieri ha detto in un'intervista nel nostro TG è un problema idrico a Cappellone, un problema che dipende dall'Enel. Ma più che una replica dobbiamo fare chiarezza su queste stupidaggini che vengono dette ai cittadini per tirarsi fuori da un imbarazzo totale. Cosa c'entra il pozzo di Nicolosi che sta a chilometri di distanza e molto più grande di Adrano con le risorse idriche che mancano ad Adrano? Bisogna dire la verità. Pedara e i paesi dell'Etna diventano in questo periodo luogo di villeggiatura gli abitanti aumentano a dismisura, c'è bisogno di più acqua. E il pozzo di Ciapparazzo che è quello che approvvigiona Adrano naturalmente l'acqua viene tutta inviata verso quei luoghi. E se andate a vedere con la vostra telecamera il deposito di acqua che noi abbiamo qui in Contrada Luna vedrete che sono vuoti. Sono con risorse idriche veramente minime. Ora hanno ripreso stamattina un po' Roccazzello quindi soffre di meno ma quello che serve Cappellone è assolutamente al minimo. Mi dicono che domani mattina forse faranno una manovra e riempiranno appunto quello di Cappellone. Speriamo non si scaldi il Presidente. Noi la campagna elettorale la facciamo ogni giorno. Tutti i giorni. Quindi è quello delle risorse idriche che manca l'acqua a casa della gente è argomento di campagna elettorale. Tutti i giorni. Non a settembre. Qua la gente sta soffrendo da tre mesi. Siamo stati tutti in silenzio. Responsabilmente. Chi fa politica, le persone. Nessuno si è permesso di dire qualcosa perché ritenevamo che prima o poi si aggiustava. Invece questa replica a me ha fatto arrabbiare molto perché in giro i cittadini non si prendono. I cittadini hanno bisogno di rispetto e hanno bisogno dell'acqua. Tutte le altre chiacchiere, Enel, Stacca, Tacca lasciamo il tempo che trovano. Riempiono immediatamente quelli che sono i depositi di acqua in Contrada Luna per non pare mancare tutto agosto e tutto settembre l'acqua nel quartiere Cappellone. Roccazzello mi dicono che oggi è stato ripristinato e io di questo li ringrazio. Spero che venga settimana prossima e li ringrazio anche per Cappellone.